dai 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 io ho toccato un pelino perché ero scorto ma va niente ma è la frizione da una parte il freno dall'altra al contrario no no al contrario non ci penso ma neanche al contrario neanche per sogno mananca no no ascolta mi ammazzo vedi 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 hai capito perché io non l'ho fatto hai capito perché io non l'ho fatto io l'ho visto quando ho fatto ti guzzi basta non gli piace più lui salta lui salta lo facciamo? ce lo diamo? si fai te facciamo il canche si fa che lui lo fa da ferra ma forca cosa io te li fai da ferra però la tiene su dritta ok tu hai capito si ti guadito mi guadito sto mi guadito tu hai capito e tu hai capito mi guadito mi guadito ti guadito questa è mi guadito è è se dopo ce ne andiamo corto? stavo già dicendo corto? l'avevo già detto che eri corto no perché ci pestava se partiva da lì ci pestava andiamo giù la strega andiamo adesso andiamo corto ancora? 16 in prima in prima un cazzus in prima sei corto non riesci ad andare su non riesci ad andare su non riesci ad andare su non tiene sotto a mo' non riesci ad andare su un pezzetto metto lo zaino no io ando giù no